Buongiorno a tutti, stamattina ci troviamo qui riuniti per andare a ripulire alcune zone montane di Cervinara. Partiremo da Fontana Stella, quindi ci troviamo qui sul Viale di Valle. L'idea è nata dopo una mia passeggiata in montagna, precisamente in località Coppola. Era andata lì per cercare un po' di tranquillità, per studiare un po' in tranquillità. Purtroppo mi sono accorta che veramente c'erano rifiuti abbandonati, sterpaie, incuria e quindi dopo questa spiacevole constatazione ho deciso di organizzare questo piccolo evento. Mi piacerebbe sicuramente che questa cosa continuasse nel tempo e quindi spero che questo sia soltanto l'inizio di un progetto che possa continuare e soprattutto attirare sempre più persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.